benvenuti sul nostro canale oggi vi porteremo tutte le anticipazioni della promessa del 12 e 13 luglio scopriremo come ana mette fine alle avance di abel e pia abbandonerà dieguito vedremo inoltre catalina confrontarsi con cruz e assisteremo a margarita puntare ad avere il 25 per cento della promessa preparando così la sua vendetta contro i marchesi non perdete i nostri riassunti dettagliati e tutte le implicazioni di questi sviluppi iscrivetevi al nostro canale cliccate sulla campanella per ricevere notifiche sui nuovi video e non dimenticate di mettere un like se siete ansiosi di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi della promessa cominciamo sembra che shimena non riesca più a sopportare la sua menzogna e supplica il dottore di simulare immediatamente la perdita del bambino ma sorprendentemente abel le dice che bisognerà aspettare un po e che si occuperà lui stesso di organizzare tutto nel frattempo la marchesa propone a suo marito di rinnovare la biblioteca con altri libri dato che stufa di un amuno e più baroja il marchese le fa sapere che probabilmente in europa scoppierà una guerra ma sembra che cruz abbia altre preoccupazioni più importanti in testa come sua nipote martina è allora che il marchese le racconta che margarita ha ricevuto un compenso economico dalla famiglia carvajal i cifuentes e la marchesa ne è rimasta furiosa nella zona del servizio la signorina martina ha seguito i passi di sua cugina catalina per parlare con simona sperando che le parole della cuoca riescano a farla sentire meglio simona le offre delle ciambelline all'anice e la signorina le confessa di sentirsi male sapendo di aver reso amari gli ultimi giorni di vita di suo padre fernando simona la rassicura dicendole che non è vero e le consiglia di non cadere nel senso di colpa le dice che anche lei ha commesso molti errori con i suoi figli e per questo sa di cosa sta parlando in un'altra scena hana racconta a suo fratello curro tutto riguardo il ventaglio della marchesa e inoltre che suo cugino manuel ne è al corrente ma non ha fatto nulla la mattina successiva il marchese è pronto a uscire con l'automobile per andare in paese quando viene avvicinato da sua figlia catalina che gli chiede di far tornare lope a lavorare in cucina alonso le dice che del servizio se ne occupa solo donna cruz e catalina gli risponde che lui può annullare le sue decisioni inoltre gli rivela di essere certa che la marchesa voglia sabotare i suoi piani d'affari proprio togliendo lope dalle cucine alonso allora le propone di provare lei stessa a convincere cruz visto che lui non vuole confrontarsi con sua moglie inoltre le dice che ha il suo benestare per avviare l'attività delle marmellate con pelaio nell'hangar pelaio sta parlando con manuel degli aeroplani durante la conversazione il conte de agnil confessa che trova difficile credere che le di cimena non condivida la passione per il volo con lui manuel rimane molto contrariato e gli dice che una volta è salita sull'aereo inoltre gli chiede se la signorina catalina sia mai salita con lui ma sorprendentemente sua sorella catalina non ha mai volato con lui ma suo fratello thomas sì gli racconta che lei è stata coinvolta nella ricostruzione dell'aeroplano dopo il suo incidente cosa che ha molto impressionato pelaio abel regala un fiore a hana e lei non la prende bene il medico le chiede se ha ancora la volontà per continuare a conoscersi e hana gli racconta che ultimamente stanno vivendo molti momenti complicati come il parto del bambino di pia e il suo successivo rapimento il che la fa sentire un po confusa e per questo si sente così il capitano dell'amata si avvicina gentilmente ma subdolamente per parlare con suo cognato alonso il marchese sospettando che lorenzo abbia un secondo fine gli chiede direttamente cosa desideri lorenzo vuole organizzare una partita di poker al palazzo della promessa alonso si rifiuta per rispetto al defunto fratello in quel momento arriva margarita sorprendentemente affermando che una partita di poker non turberà la pace del marito e che è meglio tornare alla normalità quanto prima messo all'angolo alonso decide di parlare con donna cruz lasciando a lei l'ultima parola il giorno seguente lorenzo e alonso parlano con cruz la marchesa sebbene non entusiasta accetta l'idea del poker soprattutto dopo che margarita esprime il suo assenso in cucina simona è preoccupata che nella zona nobile si noti che i piatti preparati non siano allo stesso livello di quelli di lope intanto hana porta una bibita a manuel e gli chiede se ha preso una decisione riguardo a sua madre ramona manuel ammette di non sapere ancora come procedere hana suggerisce di parlare con cruz per cercare contraddizioni e gli consegna il ventaglio come prova catalina e pelaio discutono del fatto che la marchesa ha agito contro i loro interessi togliendo lope dalle cucine catalina racconta che quando la marchesa ha sposato alonso lei era la prediletta del padre e questo potrebbe spiegare l'astio di cruz nei suoi confronti ricorda anche che sia lei che suo fratello tomas erano trattati senza compassione dalla marchesa che è riuscita a farli allontanare gradualmente dal padre nella zona del servizio pia con in braccio il suo bambino riflette sulle parole della marchesa riguardo al contratto hana arriva per occuparsi di dieguito e pia le confida le sue preoccupazioni per il patto fatto con cruz e le conseguenze del ritorno di petra maria fernandez e teresa parlano nel cortile quando arriva candela con la lista dei pro e contro del matrimonio con don carlos chiede il loro aiuto per prendere una decisione e di non giudicarla per quello che ha scritto teresa e maria fernandez dopo aver esaminato la lista le consigliano di sposarsi e di essere felice vedremo se candela seguirà il loro consiglio e voi cosa pensate che deciderà candela si sposa oppure no alla sera romulo è incaricato di preparare il tavolo da poker e accogliere gli ospiti il capitano lorenzo vuole i migliori liquori cibi e sigari approfittando del fatto che non pagherà lui i suoi cognati cruz e alonso lo rimproverano per le richieste esagerate quando romulo se ne va il capitano chiede chi parteciperà alla partita il marchese manuel e curro rifiutano di partecipare felisiano racconta a teresa di aver parlato con donna pia e la domestica gli svela i piani della marchesa per far tornare petra al palazzo la notizia rende felisiano molto felice e teresa gli fa notare che sembra essere l'unico contento di questa notizia donna pia confida a romulo la sua preoccupazione per dover rinunciare a suo figlio e vivere lontano da lui romulo la rassicura dicendole che qualunque decisione prenderà avranno il suo sostegno pia con mille dubbi firma infine il contratto che garantirà un buon futuro a suo figlio ma condanna tutto il personale a dover convivere nuovamente con petra romulo la incoraggia dicendole che ha fatto il meglio per il bambino e che non deve preoccuparsi andrà tutto bene in un'altra scena manuel tiene in mano il ventaglio di sua madre e ripensa alla conversazione avuta con hana vorrebbe parlare con cruz ma non trova il coraggio alla fine le dice che non ha dormito bene quella notte pensando alla scomparsa di ramona e che alla promessa avrebbero potuto fare di più per trovarla le chiede se la conosceva ma cruz risponde di averla solo sentita nominare aggiungendo che le indigenti è meglio tenerle lontane nel frattempo nella zona del servizio hana e abel si confidano le loro difficoltà relazionali finché non arriva a maria fernandez che interrompe la conversazione e abel se ne va rimaste sole maria ricorda a hana l'importanza di essere sincera con abel riguardo a sua madre dolores nel cortile felisiano sta mangiando un panino alla cotognata quando arriva teresa che gli dice che non può continuare a nutrirsi solo di panini gli chiede anche perché non mangia con gli altri colleghi e felisiano risponde che non serve dirlo poiché tutti lo trattano con disprezzo tranne lei teresa gli suggerisce di riflettere sulle sue colpe dato che ha fatto anche cose molto sbagliate felisiano ammette che ha ragione e che crede di meritare l'odio ricevuto margarita sta leggendo una rivista quando arriva cruz chiedendole se ha informato la stampa dell'annullamento del matrimonio di sua figlia la marchesa le consiglia di leggere romanzi invece di riviste di società martina arriva e cruz comunica a madre e figlia che la sera andranno a una messa nel paese per evitare lo spettacolo della partita di poker del capitano e per rispettare il lutto per la morte di fernando margarita risponde che il lutto si porta dentro in cucina pia romulo e simona preparano il menù per la partita di poker tutto molto raffinato come richiesto dal capitano lorenzo candela arriva con la sua lista dei pro e contro del matrimonio con don carlos e la consegna a romulo alla fine i pro superano i contro ma resta da vedere quale decisione prenderà candela la marchesa si trova in giardino quando la sua figliastra catalina la raggiunge per chiedere spiegazioni sul motivo per cui ha tolto l'ope dalle cucine catalina accusa cruz di voler interferire nei suoi piani d'affari con pelaio riguardo alle marmellate inoltre le ricorda della veglia a cui dovranno andare la sera e le comunica che non ha intenzione di partecipare in sua compagnia nel frattempo in cucina don carlos incontra simona che gli chiede se ci sono notizie di ramona ma purtroppo non ci sono aggiornamenti la cuoca gli domanda se ha intenzione di dire a candela che si trasferirà a gihon il maestro risponde che non sa nemmeno da dove cominciare pia consegna alla marchesa il contratto firmato che verrà conservato con cura cruz l'avverte che da ora in poi si è guadagnata una nemica e che non tollererà errori prima di andarsene le dice che non dimentica mai catalina e pelaio si incontrano segretamente con l'ope per discutere i dettagli dell'azienda di marmellate il conte de agnil propone di coprire i barattoli di vetro con un panno color agnil come il suo titolo e un ricamo con l'emblema della promessa in filo d'oro rappresentante catalina catalina gli dice che è invitato alla messa della vergine ma il conte sapendo che lei non parteciperà risponde che preferisce rimanere a conversare con lei alla promessa piuttosto che andare alla messa sembra che ci sia una buona sintonia tra i due giovani shimena si trova nell'hangar a guardare l'aereo di manuel quando arriva hana lady bugiarda le confida di essere gelosa dell'aeroplano perché suo marito lo sceglierebbe prima di lei hana le risponde che ora è molto sensibile e non dovrebbe dare retta ai suoi sentimenti rassicurandola che tutto andrà bene e consigliandole di calmarsi nel frattempo nella zona del servizio tutte le domestiche sono felici con dieguito coccolandolo quando hana le avverte di approfittare di questi momenti di felicità perché petra sta per tornare sembra che il bambino andrà a vivere con benny la moglie del mugnaio una donna molto buona che si occuperà di crescere dieguito i marchesi sono all'ingresso della casa pronti per andare in chiesa a lujan quando arriva martina e informa i suoi zii che sua madre è indisposta e le ha chiesto di scusarsi perché non potrà partecipare alla messa a quel punto tutti partono con la carrozza verso il paese mentre catalina e pelaio rimangono a passeggiare nei giardini per ammirare il tramonto il conte si confida con lei dicendo che l'incidente dei suoi genitori lo ha segnato per sempre c'è una buona sintonia tra loro durante la conversazione ripetono insieme che il tempo non guarisce ma rende le cose più facili catalina gli racconta di aver perso sua madre da bambina e che la perdita che l'ha segnata di più è stata quella di suo fratello tomas gli confida anche che non avrà mai la stessa complicità con i suoi fratelli manuel e leonor come con tomas dato che erano gemelli e parte della stessa medaglia dopo si siedono su una panchina e pelaio le propone di ammirare insieme il tramonto e di parlare nei loro pensieri con i cari che hanno perso la coppia si prende per mano tutto molto romantico nel frattempo nella sala giochi del palazzo il capitano lorenzo è con i suoi invitati alla partita di poker improvvisamente arriva un croupier professionista ingaggiato per l'occasione romulo si ritira lasciandoli soli ma proprio in quel momento entra margarita molto elegante chiedendo se può unirsi al gioco il capitano risponde che il poker non è un passatempo per donne e margarita replica chiedendo se ha forse paura lorenzo chiede a margarita di uscire per parlare con gli altri giocatori quando lei esce il capitano spiega che margarita ha una grande somma di denaro recentemente ricevuta e che possono spennarla alla fine i cavalieri decidono che margarita può giocare all'inizio sembra che margarita non stia giocando molto bene ma forse sta solo fingendo di non saper giocare la notte avanza e il capitano continua a vincere mentre alcuni giocatori si ritirano arriva una mano in cui margarita dice che le resta poco denaro ma decide di rischiare improvvisamente la sua fortuna inizia a cambiare il capitano ha un viso sicuro e gli altri giocatori si ritirano uno a uno dalla partita alla fine restano solo il capitano e margarita faccia a faccia lorenzo punta tutto quello che ha e margarita rilancia dicendo che non ha abbastanza denaro lorenzo tira fuori un orologio d'oro e lei dice che è una minuzia proponendo di puntare il suo 25 per cento della promessa vedremo nel prossimo capitolo se lorenzo punterà il suo 25 per cento e finirà per perderlo terminano qui queste nostre anticipazioni se volete ricevere nuovi video della serie scrivete voglio il seguito nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni grazie